Boben, partita con la Juve Stabia, una partita difficilissima anche se gli avversari arrivano da un momento un po' negativo. Sì, è partita con rosa importante, hanno attaccanti con carriera importante. Sicuramente, come tutte le partite, dobbiamo essere pronti per entrare bene, per prendere la nostra consapevolezza che siamo forti. Tra l'altro tu quel campo lo conosci bene perché con la maglia del Livorno ci hai segnato al Menti. Sì, ho segnato il primo gol in Serie B e abbiamo anche vinto quella partita. Quindi sai come si fa? Sì. Era il Livorno con Plizzari, compagno di Plizzari? Sì, era tre anni fa, sì. Che partita ti aspetti domani? Mi aspetto partita difficile, squadra che sicuramente è in difficoltà, però difficoltà mentale. Però questo da una parte ti dà anche motivazioni di alzare, di fare bene. Mi aspetto partita difficilissima. Ti chiedo un'ultima cosa perché tu con la ternana dei record hai stravinto questo campionato. Però all'inizio non eravate andati forti come il Catanzaro? Eh no, abbiamo pareggiato le prime tre, poi abbiamo vinto, poi abbiamo perso il percorso. È lungo, il campionato è lungo e può succedere tutto.